Dopo la sosta si torna in campo, un impegno sicuramente difficile. Difficilissimo, difficilissimo perché è un impegno contro una delle squadre più attrezzate di questo campionato. Adesso è il momento di incontrarle un po' tutte, però la Cremonese sicuramente è una squadra attrezzatissima. Basta scorrere l'elenco e i nomi dei giocatori che ha per capire che è una squadra molto ma molto attrezzata. Però è una partita che dobbiamo giocare anche contro la Cremonese, quindi rispetto per tutti. Come ho sempre detto, non abbiamo paura di nessuno, però rispettiamo gli avversari come è giusto che sia. Nella Cremonese ci sono Ceravolo e Daniel Ciofani che in estate erano stati accostati al Pescara. Si era parlato di costi proibitivi per la società bianca azzurra, però oggi i fatti dicono che il Pescara ha il miglior attacco del campionato. Ho avuto modo di dire a qualche tuo collega che purtroppo non si può sempre stare a rispondere alle critiche, critiche non significano, critiche costruttive che ci possono essere, soprattutto a quelli che sono i pareri di chi che sia. Io ho due direttori che fanno il mercato e credo di non essere manco l'ultima ruota del carro in questo settore. Quindi se abbiamo deciso di fare delle scelte, le abbiamo fatte consapevoli del fatto che potevamo avere dei giocatori che erano in grado di poter soddisfare quelle che erano le nostre aspettative. Così fino adesso è stato, speriamo che continuino però. Fermo restando i numeri, però si guarda già il mercato di gennaio, anche se manca ancora qualche settimana. Pescara un attaccante sul mercato lo prenderà però a gennaio. Mi viene da sorridere perché quando dici fermo restando i numeri si guarda, si guarda chi? Guardate voi, noi al mercato di gennaio non ci stiamo assolutamente pensando perché ribadisco siamo assolutamente soddisfatti del gruppo che abbiamo e della scuola che abbiamo. Là davanti abbiamo oggi tre attaccanti, un giovanissimo che per me è l'orgoglio principale, ma non perché si chiama Borrelli, perché arriva dal nostro settore giovanile che è il motivo per il quale noi lo curiamo con attenzione. Abbiamo due ragazzi tra Brunori e Maniero che sicuramente hanno poco da invidiare ad altri. Poi non mi sembra di scorgere nell'elenco dei cannonieri tutti questi giocatori importanti che hanno fatto più gol di loro. Quindi evidentemente il campionato di Serie B non vive di nomi ma vive di fatti in campo. Poi il Pescara sta dimostrando che questi fatti li può fare anche senza avere l'attaccante al momento in doppia cifra ma avendo un collettivo che gioca e segna.